Le Serpi sono pronti a mordere i primi frutti del mercato, che però passerà anche dal nuovo allenatore. Il Casarano dovrebbe essere preparato nel prossimo campionato da Ciro Ginestra, che si sta godendo le meritate vacanze dopo la buona annata trascorsa a Caserta. Il suo nome è riportato sul contratto a chiare lettere e la firma, ancora da apporre, vi starebbe bene come il cacio sui maccheroni. Anche se indizio non è sinonimo di prova, tutti quelli raccolti porterebbero la sua figura? Ad oggi non ve ne sarebbero di alternative, per quanto ottimi tecnici come Nicola Ragno e Vincenzo Feola, soprattutto il primo, siano stati in contatto con la dirigenza rossa-azzurra. Ginestra ha tutte le carte in regola per sedersi sulla panchina casaranese e fare bene con il suo 3-5-2, e purtuttavia non mancherebbero forti richiami provenienti dalla serie C. Una categoria questa che tenterebbe chiunque perché, facciamo un'ipotesi di segno contrario, se il fortissimo flirt tra il casarano e Ginestra non approdasse a qualcosa di serio, sarebbe solo perché il secondo ha scelto di rimanere in serie C.